Ah, problemi per me e mei RCR, questo cambierà tatticamente la corsa. Partiti. La lotta per il comando con Marcel che vorrebbe scavalcare Narciso Deymar che ha lo stesso problema con Maggio del Parra. I tre in lotta, Narciso è il primo che abbozza di ritrarsi ma poi ci ripensa perché vuole andare su Maggio del Parra e mandar via lui magari Marcel che però corre sotto. Vediamo adesso la situazione con Marcel che insiste su Narciso Deymar e dopo 400 metri lottati in 26.9 è il nuovo battistrata. Marcel davanti, Narciso Deymar secondo, poi Maggio del Parra, Off Limits Room. Gira a largo Our Dream Date che offre la schiena ad Orsini a sua volta seguito da Norris Club. I primi 600 metri in 41.8. Marcel davanti ma con spesa dalle retrovie prova l'avanzata oba oba ma succede dietro perché Marcel non ha rallentato e arriva adesso davanti alle tribune con i primi 800 metri di gara in 57.4. Orsini scavalca Our Dream Date che non lo porta da nessuna parte ma adesso trova l'opposizione a mezza ruota di Narciso Deymar. Orsini finisce con lo sbagliare. Al comando dunque Marcel, Orsini di galoppo, Narciso Deymar ne sotto, Maggio del Parra terza posizione. Poi Off Limits Room, dalle retrovie prova ad avanzare anche Lloyd da BWS ma Marcel accelera lasciando lì Narciso Deymar che non riesce a stargli dietro. Marcel con un parziale sulla retta opposta in 14.6 è battistrada isolato della situazione. Sbaglia Narciso Deymar, resta secondo Maggio del Parra con Oba Oba che adesso ha raggiunto i primi ma Marcel parla una lingua diversa e spara ancora 14.7 sulla curva e in terretta d'arrivo in assoluto vantaggio. Marcel, Dario Battistini che frusta sulle ruote, tiene sostenuta l'azione di Marcel che conclude facile e va a vincere nei confronti di Maggio del Parra, Off Limits Room, Oba Oba e Norris Club. La vittoria per Marcel, 1.13.3, 15 ancora da arrivare, 29.7 a chiudere con Marcel, Dario Battistini che va a segno facile e facile e facile nei confronti del numero 1 Maggio del Parra, del 2 Off Limits OM quindi combinazione 4-1-2, 1.13.3, 3.77 la quota, è tutto. Bene, 4-1-2, la combinazione tris per questa tris è straordinaria.